Per prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono più innamorati che mai. L'ex volto di Forum ha addirittura dedicato una canzone alla sua dolce metà. Si intitola Il cielo stanotte e sta riscuotendo parecchio successo. Edoardo e Antonella, convivenza in arrivo. Anche se la storia d'amore tra Edoardo e Antonella è nata sotto i riflettori e ha visto più bassi che alti, i due sembrano fare sul serio. Da quando la Fiordelisi è uscita dal GFVIP non si sono più separati e presto dovrebbero andare a vivere insieme. Molto probabilmente i Donnalisi vivranno a Roma perché Donnamaria dovrebbe tornare a lavorare per Forum. L'ex schermitrice, quindi, lascerà Milano e si trasferirà nella capitale. Una bellissima notizia per i Donnalisi, così sono chiamati i loro fan, loro ci hanno creduto dal giorno zero e sono contenti che la loro storia d'amore continui con una convivenza. Voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Grazie.